Avanti, Karat, fammi capire che fine ha fatto il tuo ultraistinto. Ah, non lo so. Come? Devo averlo raggiunto solo per caso. Quando ho il torneo mi sono sentito sotto pressione. Ah, bene, allora lo farò io e otterrò un potere ancora più devastante. Sì, però adesso, nacci dentro! Sta zitto! Tanto tu non sarai mai meglio di me, non te lo permeterò! Beh, lo sai? Noi due possiamo diventare sempre più forti! Lo so benissimo, perché la forza di un Saiyan non troverà mai un limite, mai! La sfida senza fine per andare oltre i propri limiti continua. Quando arriverà un nemico ancora più forte, Goku e i suoi amici saranno pronti a buttarsi in una nuova ventura. Fino ad allora non ci vedremo per un po'. Arrivederci!